Le ciambelle di carnevale sono sofficissime, buonissime, super golose, una ricetta semplicissima da fare senza patate. Se siete alla ricerca di una ricetta perfetta vi suggerisco di prepararle subito, piacciono proprio a tutti, grandi e piccini. Come sempre la ricetta completa la trovate nel mio canale YouTube, tutti a tavola con un ciaccosa, aspettate, provatele subito, ve ne innamorerete al primo assaggio.